Benvenuti su Meteo Giuliaci, il tempo previsto per giovedì. Bene, sarà bel tempo su gran parte dell'Italia, a parte qualche pioggia sulla Toscana, sulla Calabria e sulle isole maggiori, qualche temporale sulla Sicilia. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno in rialzo e quindi finirà un po' il freddo che per più giorni ha attanagliato soprattutto le regioni centrosettendrionali. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.